qui con Alessandro Baroni allora oggi lo Swam Lab subito una sconfitta in qualche modo è riuscito a trovare anche il pareggio cosa non è andato oggi le prime impressioni a caldo del match ma sicuramente una partita difficile contro una squadra ben organizzata ben allenata che ci ha messo in difficoltà da subito abbiamo pagato alcuni errori individuali ma tutto sommato la prestazione la reazione ce la prendiamo per buona e da questa dobbiamo ripartire probabilmente mi prendo responsabilità di questa sconfitta non ho in qualche modo probabilmente trasmesso il pensiero giusto ragazzi prima della gara ma non succede nulla il campionato è lungo ripartiamo da qui e ce la giochiamo partita dopo partita e magari anche allora evitando sicuramente alcuni errori subito a freddo qualcosa si poteva cambiare però lo Swam Lab ha un'identità ha sicuramente molto a dire in questo campionato a cosa si aggrappa lo Swam Lab e come riparte per la prossima gara ma gli errori individuali fanno parte del gioco ci stanno non sono quelli poi a determinare la prestazione nel senso il risultato magari te lo mettono in salita però poi se si ha la forza e la volontà di ripartire le partite possono cambiare l'avevamo ripresa stavamo attaccando abbiamo avuto la possibilità di vincere non ci siamo riusciti ripartiamo dalla reazione positiva che c'è stata la ringrazio